Benvenuti alla Market View di Raiffeisen. Il miglioramento dei dati fondamentali che stiamo vedendo ormai da tempo è di supporto all'asset class di rischio e alle obbligazioni ad elevato rendimento. È chiaro che i dati sono da un punto di vista fondamentale più positivi rispetto al passato ma spesso sorprendono anche quelle che sono le attese degli analisti. Non a caso infatti l'indice Surprise Index che misura lo scarto delle attese rispetto a quelli che sono gli effettivi dati per molte economie ha raggiunto livelli che non vedevamo da anni. Anche il contesto microeconomico è più positivo in particolar modo relativo alle aziende dove vediamo utili migliori in termini di attese per il 2017 ma abbiamo visto anche una riconferma dell'inversione di trend che avevamo percepito in positivo durante la fine del 2016. Questo contesto di positività a livello macroeconomico ma anche microeconomico lascia presagire ad una crescita più importante rispetto a quella che vedevamo in passato. Una crescita in passato anemica, poco promettente causata anche da quelle che erano le politiche espansive delle banche centrali ma anche a un contesto di deflazione. dati positivi così come anche un contesto di tassi di interesse in aumento ma contenuto e anche una ripresa dell'inflazione rimangono di supporto al nostro posizionamento di sovrappeso in ambito azionario all'interno della nostra Market View che andiamo riconfermando anche per il mese di marzo. Non escludiamo però delle possibili fasi di correzione nel breve periodo che potrebbero essere generate da un elevato sentiment positivo sul mercato ma anche al raggiungimento di livelli elevati di alcuni indici come per esempio quello tecnologico negli Stati Uniti. Sovrappesiamo quindi la componente azionaria anche questo mese a discapito delle obbligazioni. In particolar modo riteniamo ancora una volta che i titoli di Stato siano poco attraenti. Andiamo sottopesando quest'asset class anche durante il mese di marzo in quanto riteniamo che mostri pochissimo valore con un potenziale di rischio elevato. In ambito obbligazionario nella zona euro riteniamo che il contesto di rendimenti bassi e negativi nella parte corta della curva rimarrà tale fino alla fine del 2017. In America invece continua in accelerazione la politica dei tassi di interesse in aumento che potrebbe portare il treasury americano a livelli intorno al 3 per cento per la fine del 2017. Dove cercare rendimento quindi in ambito obbligazionario? A nostro avviso l'asset class che in questo momento mostra più valore è quella delle obbligazioni dei mercati emergenti sia in valuta forte che in valuta locale. Riteniamo che il rischio di queste asset class sia ben ritribuito in particolar modo per le obbligazioni denominate in valuta locale. In ambito azionario il contesto generalmente positivo sia a livelli macroeconomici che a livello anche aziendale rimane di supporto per la maggior parte dei titoli azionari a livello globale. Nel medio lungo periodo però riteniamo che sia importante fare attenzione alle valutazioni e in questo senso prediligiamo ora i mercati con le valutazioni più attraenti come Europa piuttosto che mercati emergenti. Rimaniamo ancora estremamente positivi sull'asset class delle commodities che a nostro avviso ha un potenziale di rendimento estremamente interessante per i prossimi anni. Bene nell'attesa che questa market view sia stata di vostro interesse io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo mese.